Al via nel Nuorese il servizio di teleassistenza per monitorare i comportamenti e le abitudini quotidiane di pazienti fragili che vivono da soli. A lanciarlo l'ASL 3 di Nuoro dopo la presentazione del servizio, il primo in Sardegna, tenutosi venerdì 23 dicembre a Gavoi, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Carlo Doria con la dimostrazione sul cosiddetto paziente 1. Abbiamo installato a casa del paziente dei sensori domotici ambientali che andranno a monitorare le abitudini del paziente. Nell'arco di una settimana si crea il cosiddetto piano di abitudini e dopodiché gli sensori continueranno a monitorare le abitudini e si farà il confronto tra i parametri monitorati dopo il piano con quelli del piano. Se si rilevano degli scostamenti rispetto a quelli del piano allora si attiva l'alert che arriverà direttamente agli operatori dell'ASL di Nuoro. Tanti risultati ottenibili grazie alla tecnologia, in primis il miglioramento della qualità di vita del paziente e della continuità assistenziale, ma anche la riduzione della mortalità e dell'incidenza di reospedalizzazioni. L'iniziativa, promossa dalla direzione aziendale dell'ASL 3 di Nuoro, anticipa un progetto ancora più ambizioso di telemedicina che l'ASL comunica sarà attivato a breve per il monitoraggio di patologie croniche, dallo scompenso cardiaco al diabete fino alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, la cosiddetta BPCO. Grazie. Grazie.